In MSD abbiamo deciso circa due anni fa di partire con questa nuova azienda chiamata Avri Health investendo 12 milioni di euro negli ultimi 24 mesi con l'obiettivo di sviluppare un servizio assolutamente innovativo di monitoraggio remoto di pazienti cronici perché sappiamo che la cronicità è quella che assorbe un montare disproporzionale delle risorse nella sanità pubblica Siamo arrivati quindi a dimostrare con uno studio unico in tutto il mondo eccetto gli Stati Uniti che trattare e gestire pazienti in remoto permette di risparmiare somme ingentissime Parliamo soltanto per i pazienti diabetici potrebbe il sistema italiano utilizzando i servizi Vri Health arrivare fino al risparmio di un miliardo di euro Quindi questo adesso noi aspettiamo avendo i servizi già in commercio da circa un anno che ci sia la possibilità quindi di interloquire con responsabili regionali e locali che siano interessati quindi a rendere questi servizi, a conseguire questi risparmi e a migliorare in maniera sensibile la qualità di vita dei pazienti